Alla premia musicale Salvuccio Porcacciolo di Mirto in provincia di Messina, trionfo dell'istituto comprensivo Montalcini di Agrigento, diretto da Gigi Costanza. La proclamazione degli studenti agrigentini vincitori. L'intervento dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla. Giunge alla ventisettesima edizione il premio Porcacciolo organizzato nella città di Mirto, nella nostra Sicilia. Un premio che acquisisce sempre maggiore rilevanza, visto che quest'anno il numero di video musicali proposti per la selezione da parte di scuole regionali e nazionali, giunge all'invidiabile numero di 300 proposte. Desidero ringraziare queste scuole ma soprattutto rivolgermi ai ragazzi, ai giovani musicisti che trovano nella scuola un momento importante, cioè quello dell'apprendimento musicale. La musica è la colonna sonora della nostra esistenza ma alla musica occorre avvicinarsi soprattutto quando si è particolarmente vocati a questo tipo di abilità espressiva. In Sicilia abbiamo lavorato per far crescere il numero delle scuole ad indirizzo musicale ma anche per consolidare la funzione degli istituti superiori, dei licei musicali e dei conservatori. Nel prossimo anno accademico altri due conservatori dovrebbero essere formalizzati passando da istituti superiori a conservatori nelle sedi di Catania e di Ribera. Si tratta di un impegno significativo, importante e si tratta soprattutto di una offerta che dà il senso e il significato di una scuola che cambia, aprendosi evidentemente a linguaggi diversi da quello della sola parola per passare alla musica, al disegno, alle arti. Insomma la scuola come occasione di apprendimento globale e di sensibilizzazione verso tutte le forme espressive e relazionali delle nostre comunità. Ai ragazzi che partecipano ovviamente il mio augurio, ai docenti che li seguono il mio ringraziamento, ai vincitori ma anche a quelli che non vinceranno traendone comunque un insegnamento, il mio più sincero in bocca al lupo. Dall'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, Carusotto Angelo Emanuele, punteggio di 100 su 100, primo assoluto. Sempre dall'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, Manzella Cristian, punteggio 100 su 100, primo assoluto.